Amici della Virtus, nuovo cambio di location ma l'argomento è sempre lo stesso, cioè la nostra amata Virtus Bologna che batte Pesaro in una partita divertente, soprattutto ci sono stati degli sprazzi di gioco molto intensi tra le due squadre e devo dire Pesaro alla fine non è un avversario scontato da battere soprattutto quest'anno dove tra giocatori e gioco ha dimostrato insomma di essere una forza ben presente in campionato adesso ovviamente, chiaro, diciamo che le V nere sono proiettate, sì, testa alla prossima partita, quello sempre però, chiaro, adesso si inizia un pochettino a pensare a quello che sarà il finale di stagione, siamo quasi ad aprile e quindi significa anche il discorso Final 8, Scudetto, chiaramente adesso questo inizia a essere un pensiero nella loro e nella nostra testa però almeno nella mia, in attesa comunque di concludere nella maniera più dignitosa possibile il campionato, o meglio scusate, il percorso in Eurolega che insomma ci ha visto, ci ha visto forse buttare via l'ottavo posto, però sono lezioni, mettiamola così la Virtus è in un momento secondo me molto buono a livello fisico, nonostante ci sia qualche assenza però fisicamente non ho visto, insomma, non ho visto grosse defiance con Pesaro Kyle Wims è tornato il guerriero che in realtà è sempre stato, soltanto ha avuto meno spazio in questa stagione perché semplicemente ci sono più giocatori di più alto livello bene il ritorno di Samuel Geley che torna anche in campionato e insomma, alla fine è sempre un bene averlo in squadra non mi è dispiaciuto Baco, non mi è dispiaciuto nemmeno Abbas che adesso lui è praticamente, poverino Abbas è stato talmente tanto fuori che è in continuo ritorno più che della partita di Pesaro, o meglio, di Bologna contro Pesaro io, quello di cui voglio parlare oggi è proprio l'avvicinamento al finale di stagione ci avviciniamo con una squadra oramai direi rodata perché anche tutti i nuovi, oramai a fine stagione si sono inseriti più che bene con qualche giocatore acciaccato che però tornerà ma soprattutto con una squadra che, questo lo dico spesso, mi ripeto alle volte ma è una cosa molto importante con una squadra che, spero, abbia finalmente la convinzione mentale dei propri mezzi nell'ultimo quarto contro Pesaro, a un certo punto nonostante tu fossi tranquillo perché avevi un bel vantaggio stavi giocando bene, Pesaro effettivamente si è un po' anche spenta però l'atteggiamento, è stato detto anche nella cronaca l'atteggiamento della Virtus a volte non è stato corretto non è stato, diciamo, da... non c'è stato quel killer instinct di dire io ho la partita in pugno ma la tengo in pugno cioè comunque gioco come se fosse un solo 0-0 gioco per fare due punti in più di te sempre, costantemente mollare la presa è vero magari a livello di corsa, a livello di rischi anche rischi fisici o la gestione dei falli te lo puoi permettere quello è giusto però è una questione di atteggiamento e lì, secondo me, la squadra ancora qualcosa da migliorare ma piano piano ho visto sicuramente meglio che a novembre, dicembre meglio che quando buttavamo via i vantaggi apocalittici in Eurolega quelle robe lì non si possono vedere e fortunatamente, salvo rari casi non li abbiamo più visti al di là di un più 24 in campionato buttato via in maniera criminale ecco, quelle cose lì magari anche no però appunto siamo in una fase finale di stagione dove oramai si spera che insomma queste cose non accadano possono accadere ovviamente a sprazzi durante le partite perché non è semplice magari restare sempre concentrati è vero, questo vale per tutti non solo per la Virtus però in generale è una squadra che come dico sempre a livello fisico e tecnico non deve dimostrare nulla a livello mentale sì sui singoli di nuovo non ho tantissimo da aggiungere magari rispetto a quello che ho detto anche in altre occasioni Bellinelli è in primavera rifiorisce quindi un Bellinelli così a fine stagione ti fa comodo Akhet insomma sono i diciamo i grandi vecchi lo stesso Wims i senatori che sono lì e adesso devono dare un apporto non indifferente al finale che adesso siano in forma è un bene rientrerà Teodosic io annovero tra i grandi diciamo vecchi anche se l'età l'età non è da vecchio però tra i senatori della Virtus anche Alessandro Paiola perché comunque quando c'è Paiola quando non c'è la differenza si vede ed è enorme più avanti magari potremmo fare anche qualche discorso su chi terrei chi manderei via ancora e presto comunque una buona vittoria contro Peser in una partita che ci ha divertito che ci ha restituito dei giocatori appunto come Bas Lumberg anche che non male dopo un periodo molto spento di IF non male Miki che segna poco però ragazzi in campo Miki fa quantità fa il suo non è un titolare fisso di questo passo non lo sarà mai però in panchina un Jordan Miki soprattutto in campionato io me lo terrei nel senso che adesso anticipo un po' qualche discorso magari ma effettivamente ha dimostrato anche nell'ultima partita di essere un giocatore che ci sta ci sta nella Virtus non è fuori posto non è assolutamente fuori posto detto questo alla prossima e sempre Forza Virtus